L'istituzione della consulta per la salute mentale. Per questo motivo sono scesi in piazza i rappresentanti dell'osservatorio regionale della salute mentale chiedendo sotto la sede dell'assessorato alla salute della regione Abruzzo un sistema di cura in linea con le raccomandazioni OMS europee e nazionali. Noi chiediamo attenzione per chi soffre di salute mentale, per le loro famiglie. Chiediamo attenzione per i centri di salute mentale pubblici che hanno pochissime risorse e grazie a bravi operatori riescono anche a fare molte cose però poi ovviamente stentano le loro attività. Il piano sanitario regionale 2008-2010 prevede già la costituzione della consulta per cui è previsto al suo interno anche la figura dell'assessorato al sociale. Ci aspireremmo come cittadini affinché ci fosse un unico assessore alla sanità e al sociale. Invece ancora, se ci sono due assessori diversi, due uffici regionali diversi, fondi diversi, ma insomma i nostri ragazzi quando avranno veramente un progetto sociale vero? La pandemia purtroppo ha amplificato i problemi legati a questa malattia coinvolgendo anche tantissimi giovani. Abbiamo studiato anche noi questi dati e sono veramente veramente allarmanti. L'età media si è abbassata e le risposte continuano a non essere adeguate alla fascia d'età e alla tipologia di problematiche emergenti purtroppo. A dar da manforte anche i rappresentanti regionali di CGL, CISL e UIL. Attraverso questo osservatorio che la sanità, l'assessore regionale e la giunta regionale prendano degli impegni ben precisi per dare dei servizi utili a far sì che la vita quotidiana di queste persone la si possa vivere nel modo più normale possibile. Innanzitutto dal cominciare a investire sulla salute mentale e quindi sulle strutture dell'ASL che si occupano di questo problema. Poi cominciare a ragionare anche su quale può essere per esempio l'inserimento lavorativo di molte persone che hanno disagio mentale. Come strutturare delle leggi regionali che possano consentire il diritto anche al lavoro di questi soggetti. Come aiutare le comunità, le persone e i familiari che loro malgrado devono occuparsi di salute mentale e di disagio magari dei loro cari.